Allora, la domanda che le faccio e quindi la invito ad una certa prudenza è come sono messe le nostre banche? Meglio di come appare. Meglio di come appaiono? Ha ragione. Sì, nel senso che quelli che si chiamano stress test, cioè le verifiche europee, le nostre banche abbastanza le hanno superate, alcune tra l'altro molto bene. Ci sono dei casi specifici che sono monitorati, uno è la popolare di Bari, un altro è stato Carige recentemente, ma complessivamente se noi guardiamo al di là adesso dell'osservazione di merito che stiamo facendo su esuberi o meno, ma Unicredit intesa, le BCC complessivamente intese... Non stanno così male come noi potremmo pensare, stanno bene. Stanno in generale meglio delle banche tedesche? Diciamo che in questo periodo...